Ciao, sono Luisa, ho 18 anni e vengo da Napoli. Il mio sogno è sempre stato quello di recitare e prima di questo facevo il liceo artistico che ho lasciato per vari problemi personali ma anche per problemi che ho subito a scuola tipo di bullismo che comunque se ne è sentito parlare spesso soprattutto qui in Italia ma anche in America. Grazie alla recitazione ho ritrovato me stessa e quindi grazie ad essa ho ripreso anche a mangiare, adesso mi piaccio di più, sono più sicura di me perché in questo campo ti devi mettere in gioco e grazie a questo ho imparato ad accettare me stessa ho sconfitto comunque le mie debolezze e ad oggi posso dire di aver conosciuto delle persone meravigliose che sono a mio fianco e che mi sostengono, io sostengo loro, ci sosteniamo a vicenda io so di potercela fare, so che arriverò a fare questo anche perché sono molto determinata nel farlo ed è una cosa che vorrei far capire anche a voi, non fatevi sottovalutare mai, non sottovalutatevi soprattutto non fatevi buttare giù da niente, da nessuno perché gli altri non sono migliori di voi e voi se volete potete raggiungere tutto, che sia la recitazione, che sia il canto, che sia fare la professoressa che sia arrivare all'università alla fine bisogna metterci sempre se stessi, bisogna crederci soprattutto perché nessuno lo farà a posto vostro e soprattutto bisogna stare con le persone giuste